Nella seduta di ieri in un'unta regionale è stata approvata la delibera di finanziamento per 12 milioni per le seggiovie della Ceno tramite la misura del POC 2014-2020. La Regione Campania ha deliberato di programmare a seguito della rimodulazione finanziaria del POC la copertura finanziaria di interventi per la realizzazione degli impianti specifici impianti automatici, località Settevalli e Raiamagra a servizio della stazione scistica alla Ceno, sostituzione degli impianti funiviari per l'importo massimo di 12 milioni 682 mila a valere sulle risorse POC 2014-2020 sulla linea di azione trasporti e mobilità individuando il comune di Bagnoli Irpino quale soggetto beneficiario. Dopo ben tre anni di fermo è finalmente giunto il momento di lavorare per riaprire gli impianti. Ovviamente l'inverno alle porte trascorrerà senza sciatori alla Ceno ma ora i soldi ci sono e si può guardare al futuro con serenità, magari laddove è possibile accelerando il tutto per far partire i lavori quanto prima. Intanto alla notizia delle risorse per gli impianti della Ceno, Ciriaco De Mita che ha sempre detto che i fondi sulla Ceno erano sicuri, si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Il finanziamento di Raceno, prima di farlo non si sapeva chi lo faceva, poi quando finalmente siamo riusciti a farlo ho letto sui giornali stamattina che tutti hanno provveduto e io non lo sapevo.